Nella serata di mercoledì si è consumata la tragedia nel cuore del centro di Forio. Vincenzo Gallo, per tutti Enzo, si è tolto la vita a 58 anni. Persona conosciuta a Forio e anche sull'isola d'Ischia, grazie alla professione da lui svolta, era un autista dell'Eav Bus. Enzo ha spiegato ai suoi familiari le motivazioni del gesto estremo in una lettera che è stata poi ritrovata accanto al corpo, oramai senza vita. Poco dopo le 21.30 è stata la moglie a fare la tragica scoperta. La disperazione è stata ed è tanta tuttora. Sono stati momenti difficili anche per il vicinato che è stato attratto dalle richieste di aiuto e da tutto ciò che è accaduto in quelle ore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. La dinamica comunque è stata sin da subito evidente. Per chi lo conosceva Enzo non aveva mai fatto trapelare l'intenzione o comunque uno stato d'animo tale da poter pensare di liberarsi della sua vita. Sicuramente le problematiche quotidiane e personali che colpiscono tantissimi cittadini soprattutto in questo periodo sono tante, ma in questi casi è sempre impossibile per chi resta spiegarsi un tale gesto. Enzo lascia la moglie e due figli, un'altra famiglia che resterà a lungo segnata dal dolore e a cui la comunità foriana e isolana non può far altro che stringersi. Il PM di turno ha disposto l'esame autoptico come da prassi, tuttavia gli inquirenti sembrerebbero essere certi di quanto sia accaduto. Si stanno ovviamente ricostruendo le ultime ore, Enzo poco prima aveva terminato il turno di lavoro e soprattutto i motivi che lo hanno portato al suicidio. In gran parte questi motivi sono stati già spiegati nella lettera ritrovata, sono stati tanti inoltre i messaggi di cordoglio condivisi sui social tra incredulità e tristezza di amici, conoscenti o persone che avevano notato Enzo in qualche occasione.